9 milioni di euro quasi di lavori per riqualificare il palazzo del consiglio regionale alla villa comunale dell'Aquila a 100 giorni dall'inizio dei lavori un tour per valutare lo stato di avanzamento. Una delle chicche del progetto è l'abbattimento come è noto della recensione attuale del complesso con la chiusura di parte di via Michele Iacobucci e la fusione degli spazi attuali con la parte centrale della villa. Un modo anche per aprire lenti alla città, ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Sarà una struttura ricollegata completamente con la città dell'Aquila quindi attraverso anche la pedonizzazione della strada frontale la riconnessione del parco della villa dell'Aquila quindi diventerà un elemento centrale per la villa non solo pubblica ma anche cittadina di questa città e degli abruzzesi in generale. L'atrio dell'emiciclo cambierà e anche le scale di cemento armato che portavano ai piani superiori scompariranno. La sala Michetti invece diverrà un giardino d'inverno con una copertura trasparente ha spiegato il professor Lucio Zazzara, progettista assieme all'ingegner Giacomo Di Marco. Adesso invece si avrà un altro respiro quando si verrà qui, ci saranno le piante, sarà una cosa molto bella perché questa copertura sarà trasparente e quindi sarà un ambiente soprattutto nella cattiva stagione molto piacevole per chi si troverà dentro l'emiciclo. Spazio anche a biblioteca e pinacoteca per riorganizzare l'immenso patrimonio librario della regione Abruzzo di circa 7.000 volumi, come aveva annunciato il direttore del Consiglio Paolo Costanzi grazie al lavoro di Rita Centofanti. Di pancrazio, anche ricordato come l'ex Gil, andrà per l'85% dei suoi spazi al Gran Sasso Science Institute. A realizzare i lavori è un'atili imprese, capeggiata dall'aquilana Rosa Edilizia con ricci costruzioni e elettroidraulica Silvi. L'ingegner Riccardo Vetturini, coordinatore tecnico dei lavori, ha spiegato invece la strategia dell'isolamento sismico che prevede un intervento importante a livello di fondazione per isolare il fabbricato dal terreno. L'obiettivo ora è sbloccare altri 2 milioni di euro per il famoso ascensore 500.000 euro che dal megaparcheggio di Colle Maggio possa portare al centro dell'Aquila in 60 secondi in via dei giardini e per altre opere del Consiglio regionale. Ovviamente tutto è in divenire, ma la struttura del complesso monumentale non andrà toccata, questa è una certezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.